La carenza è del 60%, quindi vuol dire che oggi abbiamo il 40% di personale in servizio. Gravissima carenza personale che si percuote sui lavoratori e anche sul servizio che viene reso. Il personale amministrativo è sempre meno. La situazione fra gli uffici della Prefettura, Questura e Sezione Polizia Stradale di Belluno è ormai insostenibile. I sindacati territoriali della Funzione Pubblica di CGL, CISL e Confintesa tornano alla carica rilanciando l'allarme e questa volta hanno preso in mano carta e penna. Noi abbiamo scritto al nuovo ministro degli interni per segnalare questa situazione e chiedere di implementare l'organico. Dalle attività legate all'ufficio di cittadinanza ma anche le pratiche inerenti, lo sportello unico e migrazione o ancora l'anagrafe. Esempi di servizi sempre più complessi da espletare al cittadino viste le esigue forze in campo. Al nuovo governo il mondo sindacale chiede risposte celeri. Le conseguenze dei pesanti carichi di lavoro sono ormai sotto gli occhi. Lo stress correlato che c'è per questa carenza di personale deve essere risolto dal ministero. Volevo solo ricordare che qui i lavoratori hanno un'età media di 58 anni e quindi questo anche contribuisce tantissimo. Un'età media alla quale si associa inevitabilmente il tema della quiescenza. Vi è ora anche una grande difficoltà che è quella del pensionamento dei futuri lavoratori, il quale ancora scenderà altro che 60%, qui arriveremo anche al 75%. Questo greverà sull'efficienza dei lavori amministrativi. Una realtà periferica, quella di Belluno, che talvolta per questo può apparire poco attrattiva. Attualmente la prefettura si trova in una situazione di carenza di organico tale per cui è stato richiesto l'aiuto di carabinieri in congeto e in più anche tutto il ministero ha assunto un certo numero di interinali, quindi di precari, per far fronte alla situazione drammatica di personale che si è creata perché non c'è stata una giusta programmazione. Non c'è tempo, ribadiscono i sindacati, da perdere. È necessario che il ministero prenda in mano la situazione.